Agostino Abate attraverso il suo blog lei ha pubblicato una nota che la riguarda direttamente ma soprattutto l'argomento è quello di aver abbandonato la maggioranza all'epoca sindaco Franco Alfieri perché poi non aveva ricevuto quello che chiedeva. Ecco faccia un riepilogo di tutta questa sua nota che ha pubblicato sul blog pure perché ha chiesto l'elenco degli incarichi che le avevano inizialmente dato e poi appunto com'è andata. Allora da quando mi sono candidato nel 2017 al sindaco sentivo dire dagli amici dalla gente che si diceva di me che io non ero stato accontentato in tutto quello che volevo e perciò ero passato quindi praticamente all'opposizione di quell'amministrazione. Devo dire la verità credevo che fossero delle voci superficiali che si potessero anche dire e ammettere in una campagna elettorale. Man mano che sono andato avanti però ho avuto sempre più conferma che questo fatto praticamente risultava in modo costante. Cioè si diceva l'ingegnere Abate se n'è andato perché non ha potuto avere più tutto quello che voleva. Allora Gianni siccome io sono partito guardando la gente dal basso, cioè veramente dal basso, cioè io ho studiato con tanti sacrifici e ho iniziato una professione con tanti tanti sacrifici. Non ho mai guardato la gente dall'alto. Quindi per me una notizia del genere è sapere che io mi ero avvalso della politica di Agropoli per poter migliorare la mia professione a cui avevo dato e speso tanto tempo della mia vita, cioè oltre 40 anni della mia vita a fare solo e soltanto la libera professione e a non interessarmi di politica. Sapere invece che si andava dicendo poi che io mi ero messo in politica per poter avere degli incarichi incarichi che io non ho mai ricevuto né prima e né dopo la mia candidatura già da quella del 2007. Io non ho mai avuto incarichi dalla politica agropolese né prima e né dopo della mia candidatura del 2007. Quindi sentirmi dire che io avevo abbandonato poi il 2012 la maggioranza perché non ero stato accontentato ma è stato veramente un colpo tremendo. Un colpo tremendo a cui dovevo e devo ancora praticamente rispondere. Io sto ancora aspettando e invito tutti, chiunque ne abbia notizia, a farmi l'elenco degli incarichi pubblici che io ho preso grazie alla politica di Agropoli. È in Agropoli e anche in altri comuni. Io ho qualche incarico pubblico durante tutto il corso dei miei 40 anni di professione. Se l'ho preso, l'ho preso praticamente lontano, mille miglia dalla politica di Agropoli, in altri comuni, dove ho avuto e ho ricevuto e dato contemporaneamente rispetto. Hanno creduto in me come professione e mi hanno dato qualche incarico perché tutta la mia professione è stata basata solo e soltanto sui cittadini privati. Quindi sentirmi dire una cosa del genere è chiaro che io dovevo rispondere in quel modo. Forse qualcuno potrà pensare che io ho esagerato nel chiamare dementi e deficienti coloro che parlavano in questo modo. Io li continuo a chiamare dementi e deficienti e sto aspettando da questi dementi e da questi deficienti la pubblicazione dell'elenco delle opere pubbliche, degli incarichi pubblici che abbia preso in tutta la mia vita. A far data poi in particolare dal 2007 in poi. Grazie a tutti.